il calcio è bello perché cambia totalmente tutto in pochi istanti in pochi momenti qualche giorno prima sei un eroe per tutti qualche giorno dopo sei sulla graticola e sei oggetto di critiche da parte di tutti e guardate come è cambiata la prospettiva totalmente per la juventus di max allegri perché se una settimana fa la juventus era consigliata come la nuova squadra rivale del napoli una juventus che era effettivamente l'anti napoli a juventus che da che storicamente ha sempre messo i bastoni tra le ruote al napoli che avrebbe sicuramente avuto un blocco dopo il mondiale ecco che invece di colpo la juventus non soltanto è crollata per 5 a 1 con il napoli ma attenzione perché sono tornate tutte le rivali sono tornate le rivali che possono mettere davvero ora in seri guai massimiliano allegri attenzione quindi a cosa succede perché ci sono tante novità da questo punto di vista io proprio mi ricordo un po di cosa la prima di scaricare one football visto che abbiamo parlato di serie a vi dico che gol e la serie a li trovate su one football come scaricare one football semplicissimo qui sotto nella descrizione c'è il link automaticamente e gratuitamente avrete quest'app sul vostro cellulare altra cosa qui su fcm sport trovate aggiornamenti costanti sulla juventus ma anche su tutte le altre squadre tutte le analisi post partite tutte le gare anche di coppa italia mercoledì ci sarà la finale supercoppa italiana quindi insomma qui trovate tutto quello che di bello c'è per quanto riguarda il calcio in generale e allora e quindi iscrivetevi per fatto la campanella ma soprattutto lasciate un like per noi questo semplice gesto che è gratuito ci aiuta insomma a far in qualche modo emergere certi contenuti allora andiamo direttamente alla notizia perché c'è una juventus che sembrava l'antinapoli di colpo invece si ritrova inguaiata nella corsa champions league sembra ovviamente scontata e ma figurati se non arriva quarta questa juventus come fa non arrivare quarta ed invece è cambiato tutto perché se il milan si è fermato con lei c'è buona notizia per i bianconeri ma non è una buona notizia il pocherissimo delle altre big la roma che ha vinto con una doppietta proprio di dibala guarda un po il caso quel dibala scaricato dai bianconeri che ora invece viene idolatrato a roma la vittoria dell'inter una brutta inter che però vince in casa col con il verona una lazio che vince fuori casa col sassuolo non è mai facile vincere con il sassuolo ma soprattutto c'è un atalanta che sembra essere tornata a quella dei tempi di gomez ilicic e compagnia cantante è un atalanta che ha vinto per 8 a 2 contro la salernitana la stessa salernitana che tra l'altro nel generale di andato ha messo in serie a difficoltà la juventus arrivò a fare il 3 a 2 gli ultimi minuti ma per un errore del varpo non fu convalidato ora se un atalanta del genere va a torino a giocare con la juventus ecco se c'è la juventus vista col napoli ma anche quella vista con l'udinese con la ternità e con la cremonese e se l'atalanta invece quella vista con la ternitana beh prepariamoci a un altro fine settimana discretamente complicato per massimi allegri che ora rischia davvero perché la classifica ci dice che il milan è a 38 la juventus a 37 l'inter ha guantato la juventus a 37 quindi in questo momento le prime quattro sono lì con il napoli che in questo momento fa un altro sport ma poi ci sono roma atalanta e lazio che sono a 34 punti e sono lì e l'atalanta dovesse vincere contro la juventus non soltanto agguanterebbe la juventus ma la supererebbe anche a livello di differenza reti perché attualmente la differenza reti e 15 14 15 juve 14 l'atalanta se l'atalanta dovesse vincere sicuramente supererebbe i 14 la juventus andrebbe sotto i 15 mi sembra mi sembra ovvio e quindi cosa succede succede che questa juventus rischia davvero e max allegri ora che sembrava essere una botte di ferro perché fondamentalmente della narrazione finora qual è stata è stata di un allegri che era sicuro anzi dopo otto vittorie consecutive nonostante tutto quello che c'è attorno alla juventus extracampo beh lui è l'unica certezza che la juventus ha ma questo 5 a 1 col napoli che attenzione ora comincio a vedere anche una sorta di protezione attorno a questo 5 a 1 e ma il napoli è troppo forte sì ma il napoli qualche giorno prima ha sofferto con la sampdoria che quasi ultima che in 10 ha comunque battagliato contro questo napoli ha dovuto faticare il napoli di spalletti e e qualcun altro invece dice è però con l'inter e con l'inter ha perso ed era un napoli veramente proprio questo contro l'inter un napoli brutto un inter che tra l'altro non è un momento di forma eccezionale perché la stessa inter che poi ha pareggiato contro il monza in una partita in cui il monza forse meritava la vittoria è un inter che vince a stento contro il verona in campionato che è ultimo è un inter che invece pareggia e poi va ai supplementari e vince soltanto grazie ai supplementari contro il parma che è una squadra di serie b questo per farci capire che non è che la juventus non poteva arrivare a giocarsela col napoli è che la juventus è in questo momento gestita male ma soprattutto evidentemente questa gara non è stata preparata bene e e per di più una juventus che ha chiari evidenti problemi perché se abbiamo evidenziato per tanto tempo la qualità della juventus in fase difensiva con i sette gol subiti fino a venerdì sera in campionato si parla poco invece dell'attacco e l'attacco in questo momento al di là della roma che ha fatto solo i 23 gol la juventus ha il peggior attacco tra tutte le prime sette che sono lì perché il napoli ne ha fatto 44 e siamo ancora lì a dire fa un altro sport ma l'inter che non vive una stagione fallicitissima ha comunque segnato 11 gol in più rispetto alla juventus il milan che sta avendo qualche difficoltà rispetto allo scorso anno ha comunque fatto otto in gol più della juventus si subiscono più gol della juve sicuramente però nel calcio è importante anche fare i gol non soltanto non subirli la lazio ne ha fatti 31 quindi ne ha fatti 4 in più della juventus e la lazio sicuramente ha avuto anche lei i suoi problemi con l'assenza di immobile per tanto tempo l'atalanta ne ha fatti 34 9 in più della juventus si solo 8 ne ha fatti l'altro giorno con la salernitana ma questo è un dettaglio e questo per farci capire che in questo momento la juventus ha un periodo complicato c'è però una buona notizia in tutto questo che se dovesse uscire indenne dalla sfida contro l'atalante quindi vincere contro l'atalanta dopo si aprirebbe un filone di partite che quantomeno la juventus può gestire perché perché comunque andresti a giocare la settimana dopo sempre in casa col monza che attenzione questo monza non scherza però se la juventus vuole chiamarsi juventus vuole avere l'ambizione di essere una grande squadra beh almeno il monza lo devi battere in casa attenzione il mondo sta giocando benissimo è salito tantissimo con paladini fa paladino fa un gran bel gioco però la juventus dovrebbe comunque battere il mondo poi va a giocare contro la salernitana che cambio allenatore in vista sì però ha preso sempre otto gol l'altro giorno con l'atalanta quindi può essere comunque battuta andrà a giocare il 12 due giorni prima di san valentina con l'amatissima fiorentina e quindi anche lì una fiorentina in questo momento non è che sta brillando poi ci sarà la sfida contro il nant spezia juve poi il 19 e e poi si finisce febbraio con juve torino a torino all'alian stadium quindi se l'eventus dovesse riuscire a vincere o comunque pareggiare con l'atalanta poi si abbrerebbe un mini ciclo di partite che secondo me per come la vedo io sono abbordabili l'eventus le può vincere la speranza però è non tanto vincerle in sé per sé ma ricostruire un tipo di gioco con una mentalità un po più offensiva cioè sì va bene non prenderle perché comunque importante nel calcio avere una buona fase difensiva però mi piacerebbe vedere una fase offensiva un po più interessante perché troppi pochi gol è una media gol troppo bassa ditemi la vostra effettivamente allegri rischia qualcosa lì rischia davvero di non arrivare tra le prime quattro poi evento sono un posto garantito in champions league per la prossima stagione ditemi la vostra qui sotto ciao ciao ciao